Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando purtroppo degli incidenti che ci sono stati nel tratto arettino dell'autosole in questa giornata di rientro dalle vacanze pasquali e anche il giorno di Pasqua è stato funestato da due tragedie. Il servizio. Un rientro dalle vacanze pasquali funestato dagli incidenti dopo le due morti di ieri nell'aretino un uomo di 75 anni colto da un malore nella zona del Torrino e un centauro di 72 anni in Val D'Arno colto anche lui da malore oggi nel tratto toscano dell'autosole sono stati ben tre gli incidenti. Poco prima delle 11 il primo nel tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana in direzione nord tre le auto coinvolte, sei i feriti. Dopo alcuni chilometri più avanti a causa delle lunghe code un secondo incidente al chilometro 389, un mezzo pesante e due autovetture. Il tratto della 1 è rimasto momentaneamente chiuso al traffico, poi riaperto intorno alle 13.30 tre le persone che sono rimaste ferite. Infine uno scontro intorno alle 13 nella zona del Val D'Arno chilometro 356 in direzione nord, due le auto coinvolte, una persona, una donna di 27 anni portata in codice giallo all'ospedale della Gruccia. Un altro incidente stradale è accaduto nella serata di Pasqua nel Cortonese intorno alle 20.30 lungo la provinciale 28 nei pressi del Bivio per Creti. Sono stati attivati un'auto medica dalla Val di Chiana, un'ambulanza dell'Avis di Foiano della Chiana e i vigi del fuoco del comando Aretino. Una donna era andata fuori strada a bordo della sua auto, una donna di 36 anni, poi soccorsa e trasferita in codice giallo al pronto soccorso della Fratta. Adesso invece parliamo dei tanti turisti che hanno affollato appunto il territorio Aretino proprio in questa Pasqua e Pasquetta. È stato un weekend pasquale davvero da tutto esaurito. Noi siamo andati a vedere questa mattina come era andata sul fronte dei musei. Ma il Duomo e poi un po' le vie del centro. Quindi Cappella Bacci, Piero della Francesca? Sì esatto, quella è lì. Una Pasquetta a spasso per i musei Aretini in cima. Ovviamente alle richieste dei turisti c'è la Cappella Bacci con la leggenda della vera croce di Piero della Francesca, ma anche gli altri siti museali sono visitati dai tanti turisti che oggi sono in città. Da Firenze. Venite da Firenze. Che scelta avete fatto rispetto ai musei da poter visitare? Adesso la Cappella Bacci, poi volevamo vedere Santa Maria delle Grazie e arrivare in piazza. Due i musei che solitamente in questo periodo i turisti trovavano chiusi, il Museo d'Arte Medioevale e Moderna e Casa Vasari, grazie ad un accordo tra la Direzione Regionale Musei della Toscana, la loro valorizzazione e gestione è stata affidata alla Fondazione Arezzo in Tour, entrambi comunque aperti solo fino alle 12.30. Bene l'afflusso anche per il Museo Archeologico Gaio Cilio Mecenate, scelto da aretini e turisti. Noi in questo periodo stiamo facendo i turisti per caso Arezzo. È vero, stiamo andando a vedere i vari monumenti e mi piaceva portare loro qui perché io come sono un ex insegnante sono venuta spesso qui al museo. E' la cosa che li ha interessati di più. La caccia al tesoro. Il tesoro per questo gatto Gaio che li portava nelle varie stanze gli spiegava quali erano le cose più importanti. Noi arriviamo da Napoli, quindi siamo venuti a trovare i nonni qui e chiaramente abbiamo lasciato le bambine a casa, ne abbiamo tre e abbiamo deciso di fare un giro insomma culturale e vedere il museo. Visto che non avevamo la possibilità di girare con le bambine, stamattina abbiamo approfittato. Sì, io sono il nonno, sono aretino. Lei fa la guida oggi? Come da guida, sì, da Cicerone. Trentino. Trentino. Avete già deciso un giro tra i musei, quelli che sono aperti? Certo, è prenotato la signora là che si sta scappando, che museo che siamo andati a prenotare? Museo della Basilica di San Francesco e faremo la visita guidata alla città. E per chi invece ha preferito la gita fuori porta, magari anche in versione invernale, ci sono stati questi oltre 15 centimetri di neve che hanno imbiancato il Monte Amiata dai mille metri in su. Le piste, soprattutto nella zona della Betone, sono appunto rimaste aperte per coloro che insomma hanno voluto trascorrere questo ultimo weekend, diciamo così, invernale. Tutto imbiancato anche il Pratomagno, qui parliamo ovviamente del territorio aretino. Insomma, una Pasqua appunto all'insegna della neve per coloro che hanno scelto queste zone. E proprio le basse temperature di questi giorni avrebbero messo davvero a rischio importante le colture soprattutto della frutta, ma c'è un metodo che ormai invece le mette al riparo dalle gelate notturne. Sentiamo. L'iglu che si è formata sta proteggendo il fiore della mela Golder Ruggine Valdichiana. Questo ghiaccio la protegge dal meno, quindi dal sotto zero. Noi dobbiamo continuare a buttare acqua sopra per garantire questo scambio termico e proteggere questa qui. Si vede il fiore rosso, però subito sotto il fiore c'è la melina. Nei frutteti della Valdichiana è così scattato nuovamente il piano antibrina. Stiamo cercando di proteggere la frutta della Valdichiana dalle gelate di aprile. Il termometro nella notte è infatti precipitato a diversi gradi sotto zero, così per proteggere gemme e fiori da ghiaccio è stato necessario attivare da parte delle aziende il sistema. Quando le temperature si avvicinano intorno allo zero, scendono sotto lo zero, c'è il rischio di gelate e soprattutto in questo periodo quando le piante vengono fuori già da riposo vegetativo, quindi hanno gemme, fiori, il rischio dei danni dal gelo è altissimo, quindi mina la produzione. Mentre invece praticando quello che viene chiamato il soccorso antibrina, quindi irrigando su queste gemme, si crea, chiaramente con le temperature che si abbassano, come uno strato isolante, quindi uno strato di ghiaccio che le preserva. L'acqua di Montedoglio è stata così utilizzata per tentare di salvare produzioni e raccolti dal freddo intenso che rischia di mettere cappogli in pianti e azzerare le produzioni, un pericolo reso sempre più concreto e reale dai cambiamenti climatici. Dieci, quindici anni fa si andava molto meno sotto zero e poteva essere una, due volte nel decennio che veniva attaccata l'antibrina. Ora purtroppo gli ultimi anni sono quelle due, tre, quattro, qualche anno fa abbiamo fatto anche undici antibrine. È una cosa insostenibile economica per le aziende perché le aziende l'acqua la pagano, anche quella della diga viene pagata, però grazie che ci sia. Potrebbe arrivare a breve, a conclusione, il percorso iniziato nel 2019 con il bando per la riqualificazione della zona del Parco Giotto e in particolare della nuova struttura tutta colorata che insomma lo ricorderete aveva fatto anche un po' discutere quando era stata appunto approntata. Il bando era stato vinto da Coenè ma poi aveva stentato ad essere aperto questo punto ristoro. In questi 350 metri quadri verrà ospitato appunto un bar ristorante, in questo caso sarà di Menchetti la gestione e poi altre attività con trasporto, animazione e cultura. I lavori stanno andando avanti e dunque l'estate 2023 potrebbe essere davvero quella buona per appunto vedere l'apertura di questa nuova struttura. Dicevamo una Pasqua da tutto esaurito soprattutto negli agriturismi e così è stato. Il bilancio appunto di Confagricoltura è quanto mai positivo ma guardando all'estate c'è il problema siccità legato soprattutto alla gestione delle piscine. Toscana, mi corregga se sbaglio, ha vietato il rabbocco delle piscine quindi immagino che soprattutto per le strutture, ora non so cosa accadrà in ambito privato ma insomma per le strutture che sono ovviamente aperte al pubblico, questo potrebbe rappresentare un problema? Allora sì, il tema delle piscine è un problema in questo momento, è un problema che le associazioni di categoria e Confagricoltura stanno cercando di affrontare a livello regionale e è un problema che va su due livelli. Il primo è quello appunto della siccità come giustamente veniva detto. La siccità è sentita da tutti ma c'è una normativa che prevede l'obbligo dello svuotamento annuale di tutte le piscine prima della nuova stagione. Questo dal nostro punto di vista è assolutamente eccessivo e stiamo lavorando insieme all'assessore regionale per far sì che non sia d'obbligo svuotare tutti gli anni integralmente la piscina. Questo ovviamente è uno spreco enorme. Di contro dall'altra parte appunto ci sono alcune realtà che non permettono il rabbocco, altre realtà di acquedotti pubblici invece lo permettono, ma anche qui ci sono delle normative estremamente stringenti da un certo punto di vista, dal mio punto di vista anche molto eccessive. Ad esempio per ciascun ospite si pretende 30 litri giornalieri di rabbocco. Se ci mettiamo in un periodo di siccità obiettivamente ci viene un po' da sorridere perché dobbiamo conservare più possibile l'acqua sempre nei limiti della sicurezza, ma la sicurezza è determinata dall'analisi e quindi sprecare acqua in questo modo dal nostro punto di vista è eccessivo. Prima riusciamo a risolvere questa questione e prima i nostri agriturismi riusciranno a fare una programmazione delle loro attività. Quindi le luci e le ombre sul mondo dell'agriturismo sono proprio queste, cioè da un lato c'è un'attività interessante, Florida, per la quale c'è molta domanda. Dall'altra però c'è una normativa, una serie di normative e una burocrazia tale da rendere molto complicato e molto difficile poter portare avanti questa attività. Quindi quello che speriamo noi è che appunto anche il legislatore a livello regionale sia più consapevole del valore che questa attività economica ha e quindi faccia anche delle leggi più consone e più adeguate al buon senso. La rottura di una tubatura in via Diaz-Montevarchi ha causato questa mattina all'alba seri danni nella cittadina valdarnese a darne notizia. Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai alle 5 di mattina scrive in un post sui suoi social network che i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di una rottura di un tubo nel tratto di strada tra Viale e Diaz all'altezza di Confartigianato con conseguente grossa perdita di acqua e svuotamento del serbatoio che ha portato al grave disagio proprio di assenza di acqua in gran parte delle utenze cittadine, problema poi risolto nel primo pomeriggio da Publiacqua. A meno di un anno dall'incontro di Rondine con il segretario generale dell'ONU Gutierrez è stato firmato in questi giorni un protocollo di intesa appunto tra Rondine e l'ONU, ce ne parla il suo presidente Franco Baccari. Questo protocollo con l'ONU che insomma era ovviamente la vostra dimensione internazionale non nasce così, insomma nasce ovviamente con la vostra realtà, però ecco che cosa porta questo tassello così importante alla realtà di Rondine? Ma sono relazioni che crescono come ricordi di Benete, noi nel 2018 fumo accolti al Palazzo di Betro, a New York, lanciamo la campagna Leader for Peace, cioè dicemmo a tutti gli stati togliete qualche piriciole dei soldi che destinate alle armi e mettetela invece in investimento, in cultura, in formazione per formare una nuova leadership che pensa globale. Vediamo in questi giorni come c'è una inadeguatezza generale delle leadership rispetto alle sfide che ci troviamo a vivere. Da lì sono nati i rapporti, abbiamo coltivato le relazioni, siamo entrati in tanti momenti condivisi, è stata apprezzata Rondine il suo metodo di trasformazione dei conflitti e quindi siamo arrivati alla firma adesso di questo nuovo protocollo di collaborazione con UNAOC che è l'Agenzia delle Nazioni Unite predisposta all'educazione all'incontro tra le civiltà, quindi i dialoghi interculturali, i dialoghi interreligiosi e la prospettiva della trasformazione dei conflitti. Quindi hanno trovato in Rondine il luogo ideale da approfondire, da studiare e da disseminare nel mondo. Quindi ci aiuteranno a disseminare il metodo Rondine nel mondo. Speriamo nelle scuole, nelle università, negli ambiti più diversi perché là dove c'è la guerra possa essere un momento di riparazione delle ferite terribili. Là dove la guerra non c'è sia un'educazione alla pace molto concreta e non irrealistica o ideologica. Una Pasqua di doni e di incontri per la casa di riposo Fossombroni. Le festività sono state anticipate dall'ormai consueta visita dei rappresentanti del quartiere di Porta del Foro che hanno confermato la loro vicinanza e la loro attenzione verso gli ospiti dell'istituto. Una delegazione giallocremisi guidata dal rettore Roberto Felici si è infatti recata. La Casa Pia ha fatto tappa in diversi moduli assistenziali per trascorrere la mattinata della vigilia di Pasqua insieme proprio ai residenti con un sereno momento di confronto terminato poi con la consegna di un grande uovo di cioccolata. E siamo allo sport. Iniziamo parlando però di un qualcosa che non riguarda lo sport giocato ma di un premio riconosciuto da Lussi, l'Unione Nazionale dei giornalisti della stampa sportiva, al Circolo Tennis Giotto per aver installato proprio nella sua struttura una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Il premio Costruiamo Gentilezza nello Sport al Tennis Giotto. Il riconoscimento è stato conferito dal gruppo toscano giornalisti sportivi e dall'associazione Corre Tamor al Circolo Aretino per la realizzazione di una panchina rossa all'interno del proprio impianto volta a sensibilizzare contro la violenza sulle donne e a stimolare una riflessione sui temi delle pari opportunità, dell'uguaglianza e della difesa dei diritti. Presente alla cerimonia anche Paola Alberti, mamma di una giovane ragazza vittima di femminicidio. Purtroppo il 15 maggio del 2016 è successo, sì, è successo anche a me e di ritrovarmi all'improvviso senza una figlia che è stata uccisa dal suo ex marito il quale poi si è suicidato. Quindi due persone, due vite perdute in un momento solo. Da quell'istante ho deciso che dovevo fare qualcosa perché sono situazioni inconcepibili e secondo me sono assurde che nessuno ci può credere fino a che non si trova direttamente nella situazione. E per questo portiamo avanti insieme al Centro Antiviolenza di Firenze, Artemisia, alla Toscana Aeroporti dove mia figlia lavorava, dei progetti di sensibilizzazione e eventi proprio per sensibilizzare e far conoscere quali possono essere i segnali, quali possono essere delle forme di allerta per prevenire, soprattutto per prevenire perché queste cose non devono succedere più. I nostri valori vanno trasferiti in una delle scuole più importanti che abbiamo in Italia perché noi abbiamo oltre 300 bambini, quindi è una scuola veramente popolata. Questi valori devono essere trasferiti a loro e noi ce la mettiamo tutta, la nostra didattica e i nostri maestri devono portare avanti questi valori. I nostri bambini, devo dire, l'abbiamo visto anche nelle ultime manifestazioni, sono già sensibili a questi temi. Il tema della gentilezza che oggi trattiamo è uno dei temi, ma il rispetto dell'avversario, la capacità di stare in campo in un certo modo, quindi non farsi prendere da gesti di rabbia. Abbiamo una scuola che è dalla base fino all'alto livello. Lo sport è vita, è metafora di vita, salite, discese, sfide, è importante esempio che vengono dallo sport perché i nostri bambini, i nostri giovani nello sport devono trovare un alleato della stessa vita e soprattutto devono trovare dei messaggi positivi come il tennis giotto sta portando avanti e quindi veramente siamo grati a loro per quanto stanno facendo. È stato il sesto successo consecutivo, quello dell'Amen Scuola Basket Arezzo portato a casa sabato scorso contro il Castel Fiorentino e adesso si pensa alla gara contro la Menzana. Sesto successo consecutivo per l'Amen Scuola Basket Arezzo in questa volata finale di stagione regolare del campionato di serie C-Gold. Gli Amaranto di coach evangelisti hanno la meglio sul Castel Fiorentino al termine di una gara intensa che ha divertito il numeroso pubblico a corso al Palasport Estra. Partenza determinata degli ospiti con un belli implacabile dall'arco dei tre punti, dall'altra parte è Fornara a rispondere e tenere a galla gli Amaranto. Poi è Peluchini a mettere a referto cinque punti consecutivi che scaldano le mani dei tifosi Amaranto e riportano in scia l'Amen. Nel secondo parziale Castel Fiorentino prova ad allungare sfruttando una difesa intensa che produce qualche palla persa per la SBA. Si va a riposo sul 36-31. A rientro in campo l'Amen è letteralmente trasformata a una serie di triple di Rossi, Toia, Fornara e Vaselinovic mettono in crisi la difesa del Castel Fiorentino con un parziale di 16-2. Belli prova a rispondere nuovamente dalla lunga distanza ma Fornara rilancia la SBA a più 14. L'Amen vola sulle ali dell'entusiasmo chiudendo la partita con una tripla di Rossi che suggella il più 18 massimo vantaggio per la SBA prima che i punti di Alberto Lazzeri fissino il punteggio finale sull'81-66. Domenica prossima a Siena con la Menzana un'altra sfida importantissima per i ragazzi di coach evangelisti che a questo punto non devono fare calcoli ma giocare ogni partita come una finale. Stasera ho chiesto una cosa sola e l'ho chiesta per i ragazzi cioè di vincere per togliersi la soddisfazione di aver battuto le tre squadre più forti del campionato perché alla fine Cecina, Prato e Castel Fiorentino secondo me sono le squadre più forti del campionato siamo riusciti a battere almeno una volta tutte e due e penso faccia anche piacere ai ragazzi che se lo meritano per come si stanno allenando per quello che stanno dando alla squadra siamo cresciuti tanto in difesa era quello che ci mancava un po' nei giorni d'andata. Sì, siamo riusciti a battere sia Spezia come hai detto te, Cecina e anche Cessina, Prato e Castel Fiorentino con le ultime due partite potremmo quasi avere la garanzia di vittoria riuscendo ad andare direttamente in Serie B oppure ancora sarebbe ostica e influenzata dai risultati delle altre squadre? Guarda, ti dico la verità è dalla sconfitta di Alto Pascio che non guardo più la classifica nel senso che non faccio calcoli abbiamo deciso di prendere partita per partita pensare solo a quella credo che abbiamo scarsissime possibilità di arrivare tra le prime quattro non so neanche se c'è la possibilità però ti dico la verità noi giochiamo ogni partita per vincere perché penso che ci divertiamo a giocare insieme questa è una roba troppo importante È tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese attenzione arrivederci